I ripetuti articoli del quotidiano Libertà per evidenziare lo stato di abbandono di Villaverdi a Sant'Agata, da nove mesi chiusa e preda di un crescente degrado, in attesa dell'asta che dovrebbe consentire allo Stato di esercitarne il diritto di prelazione e salvarla dall'incuria e dall'oblio, non sono caduti nel vuoto. Ci sembrava inaccettabile anche vedere solo qualche erbaccia attorno alla residenza dove il maestro Giuseppe Verdi ha vissuto per 50 anni. Si sono aggiunti poi altri segni di degrado, una grondaia rotta, macchie di umidità evidenti sui muri perimetrali, erbacce che diventavano sterpaglie, rami spezzati e caduti su una strada laterale alla villa e quindi abbiamo fatto quello che un giornale normalmente è tenuto a fare, osservare, descrivere e se in questo caso essendoci di mezzo una delle cose care a tutti, nessuno si muove, chiedere che qualcuno si muova. Qualcosa finalmente si è mosso ed è di ieri la notizia che è iniziata la missione Decoro con un piccolo intervento di ripulitura nel grande parco che circonda l'immobile. Abbiamo insistito con articoli di cronaca, pubblicato un commento che ha chiamato in causa per le loro competenze, da una parte la magistratura che è la custode giuridica del bene e ci siamo rivolti alla soprintendenza che è l'articolazione territoriale del Ministero dei beni culturali. E proprio il Ministro dei beni culturali Gennaro San Giuliano sta seguendo la vicenda dopo la sua visita dello scorso 23 novembre quando assicurò l'impegno del governo. La Villa Verdi è un bene culturale per antonomasia, qualcuno doveva sentire il dovere di muoversi. Finalmente, come abbiamo scritto questa mattina sul giornale, questo intervento è iniziato, sottolineo è iniziato. La notizia della chiusura della Villa, conseguenza di una controversia tra gli eredi, ha suscitato numerosi moti di indignazione, a partire dal maestro Riccardo Muti che nel novembre scorso, in un intervento sulle pagine di libertà, scrisse di provare sconcerto e irritazione. L'ultima amarezza, ma solo in ordine di tempo, è quella dell'ex sovrintendente della Scala, Carlo Fontana, che in un'intervista sulle colonne del quotidiano della settimana scorsa lo ha definito un degrado che era trista, perché tra quelle mura c'è l'anima del compositore, il suo genio e i suoi strumenti, e il rischio è quello di farne un rudere.